Sono almeno 10.000 gli abruzzesi che perderanno il reddito di cittadinanza. Tutti gli altri, circa 20.000, possono far richiesta dall'assegno di inclusione il nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie bisognose. Questo a fronte di nuovi parametri imposti dal governo Meloni che esigono la presenza in famiglia di almeno un disabile, un anziano, un soggetto fragile che si è inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, oltre ovviamente a un reddito ISEE non superiore ai 9.360 euro, ma il valore è più alto nel caso di nuclei familiari con minorenni. Da oggi è possibile fare domanda. Il termine ultimo è il 31 gennaio 2024. L'assegno avrà una copertura di 18 mesi, prorogabile per 12, con un importo annuo di 6.000 euro incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare. Massimo supporto in questa prima fase dai patronati, come spiega Mirko D'Ignazio in CACGL Abruzzo e Molise. Noi da oggi siamo in campo per assistere le persone che vengono per l'invio della domanda, per l'iscrizione sulla piattaforma SISL, che è la piattaforma ministeriale, e per la sottoscrizione del patto di inclusione, che sono tutti e tre passaggi necessari per poi aver liquidata la misura. Ci sono difficoltà tecnologiche, nel senso che scontiamo già un problema con la piattaforma nazionale, quindi ci sono dei problemi, ma chiaramente confidiamo nel fatto che con la nostra assistenza si riuscirà a superarli. Anche perché il termine non è più quello del 31 dicembre, ma il 31 gennaio. Sì, è stata accolta di fatto quella che era la nostra richiesta, sembrava le domande scadessero il 31 dicembre, mentre invece poi con una circolare IMSS è stato chiarito che c'è tempo, fino al 31 gennaio, per vedersi riconosciuto anche il mese di gennaio come indennità, per cui comunque non c'è più la fretta che sembrava ci fosse nei primi giorni. Chiaramente, insomma, comunque l'invito è a recarsi nelle nostre strutture per inviare le domande. Escludendo delle famiglie, si escludono dei soggetti comunque in difficoltà, perché chi oggi sta ancora percependo il reddito di cittadinanza sono quei soggetti che all'interno del nucleo familiare hanno un minore, quindi un bambino o un disabile o un anziano, un ultrasessantenne. Escludere una parte di queste famiglie dalla nuova misura significa mettere ancora più in difficoltà dei soggetti con delle fragilità sociali che difficilmente riusciranno ad andare avanti a trovare delle risposte ai propri bisogni.